Allora, siamo giunti finalmente alla terza edizione di Arte Salerno, abbiamo preso due spazi, l'anno scorso c'era anche lo spazio della Stazione Marittima, quest'anno non è stato possibile, però fondamentalmente quest'anno abbiamo preso comunque Palazzo Fruscione dove saranno esposti 170 artisti che vengono da tutto il mondo, in più al complesso di Santa Sofia monumentale abbiamo messo sei personali in concomitanza con le ceramiche fatte da alcuni artisti di tutta la costiera amalfitana, di Vietri, Cava, quindi del circondario salernitano, le ceramiche dedicate ad Escher perché il tema è la metamorfosi quest'anno, quindi spero che vada tutto bene come le altre due edizioni. Assolutamente sì, questa terza edizione di Arte Salerno infatti avrà luogo al Palazzo Fruscione, quindi proprio nel cuore pulsante di Salerno e del centro storico e alla chiesa della Santissima Dolorata che fa parte del complesso monumentale di Santa Sofia, quindi due palazzi storici che narrano proprio la storia di Salerno. Gli artisti sono 180 e alla chiesa della Santissima Dolorata ci sarà anche una mostra di ceramica, Escher Memento a cura di Rino Mangieri e in collaborazione con il comune di Atrani perché il tema di Arte Salerno in questa terza edizione è dedicato alla metamorfosi, ispirata proprio da una delle opere più celebri di Mauriz Cornelis Escher che è appunto il ciclo della metamorfosi, Metamorfosi 2. Sappiamo tutti che Escher ha vissuto per un periodo della sua vita proprio in costiera amalfitana, proprio ad Atrani e amo tantissimo tutta la Campania, quindi ci siamo sentiti di unirci nei festeggiamenti a tutto il mondo a 120 anni dalla sua nascita perché appunto quest'anno ricorrono i 120 anni dalla sua nascita con una mostra dedicata, diciamo omaggiata a lui, non solo a lui ma anche ad uno dei poeti e scrittori più rappresentativi e più importanti di Salerno che è Alfonso Gatto, difatti anche lui con dei versi bellissimi ha citato Atrani, quindi essendo un premio internazionale abbiamo voluto dedicare un premio sia ad un artista straniero che ad uno scrittore salernitano. Inaugureremo il primo di dicembre al Palazzo Fruscione con una presentatrice RAI che conoscono tutti, che è la bellissima Veronica Maia e da lì poi proseguiremo con l'inaugurazione anche alla chiesa della Santissima Dolorata che prevede, oltre la mostra di Escera, anche sei personali a cura della Prince Group di Armando Principe. Cosa dire? Un evento davvero di un eco internazionale data la presenza di artisti che vengono da ogni parte del mondo ma soprattutto di una giuria internazionale dove sono coinvolte nazioni come il Libano, l'Armenia, la Grecia, non vorrei dimenticarne nessuno, la Francia, il Brasile quindi non soltanto l'Europa ma tutto il mondo coinvolto a Salerno con la presenza poi dei giurati. Il tutto finirà con una cerimonia di premiazione al Teatro Augusteo di Salerno dove sarò accompagnata nella presentazione di tutta la serata dal comico Mariano Bruno che avete potuto vedere in trasmissioni molto conosciute come per esempio Made in Sud. Non solo questo ma ci sarà al teatro una performance di un regista cavese, Andrea Adinolfi, ispirata sempre alla metamorfosi e il tutto finirà con una performance live dei Quisi Sona Band. Abbiamo puntato quest'anno su giuria internazionale e critici italiani di fama riconosciuta anche molto giovani. Di fatti all'inaugurazione, ad accompagnarci in questo viaggio metamorfico, non solo Veronica Maia e Armando Principe ma anche il critico d'arte salernitano Luca Cantore d'Amore. Per tenedizione per rinnovare un impegno sull'arte contemporanea del comune di Salerno. Sì, questa è un'iniziativa a cui guardiamo con grande interesse. Più in generale ci piace immaginare che in città ormai si susseguono iniziative. Alcune completamente pensate, sostenute e volute dall'amministrazione, altre da soggetti privati, altre iniziative pubblico privato. È esattamente la dimensione a cui abbiamo guardato in questi anni, che abbiamo costruito per avere un'offerta culturale sempre sostenuta. In particolare in questo periodo non vi sfugge l'importanza di accompagnare a luci di artista una serie di attività squisitamente culturali in senso stretto che soddisfino anche le esigenze di un pubblico che oltre all'atmosfera delle luci chiede altro.